Siamo assolutamente preoccupati anche se non siamo sorpresi di quello che sta accadendo perché sono situazioni che noi già stiamo denunciando da diversi anni e non a caso sindacalmente, unitamente anche le altre organizzazioni sindacali, avevamo suggerito, ci eravamo resi promotori di un'iniziativa di coinvolgimento di questa società che interessa il Vastese ma anche della società Ama che è la municipalizzata dell'Ama nell'ambito di un processo di riordino dell'azienda unica di trasporto, la tua, che potesse in qualche modo inglobare anche queste due realtà così come è avvenuto per Arpa, per GTM e per Sangritana. Così si sarebbe sanata anche una situazione ereditata dal lontano passato perché io ricordo che già quando nacque Tua negli anni Ottanta c'era la concreta possibilità di coinvolgere il territorio del Vastese, cosa che purtroppo i politici locali evidentemente non ritennero opportuno. Ecco, stante questa situazione, con le parole di Giulianti che ha parlato di default, voi cosa chiedete? Cosa si può fare per salvare questa azienda? Noi crediamo che ci siano ancora le condizioni per salvare questa azienda ma non facendola rimanere così come è adesso perché altrimenti io credo che agendo soltanto sul taglio dei servizi l'amministratore di una società lo sappia fare chiunque. Si tagliano i servizi, chiaramente si riducono le possibilità, un diritto alla mobilità ai cittadini e chiaramente le situazioni si mettono a posto. Noi crediamo invece che questo territorio rappresentando quelle aree interne tanto decantate, questa realtà debba essere salvaguardata. Quindi crediamo che bisogna in qualche modo pensare ad un progetto un po' più ampio che preveda ancora la possibilità che sia tua a gestire queste tratte che oggi gestisce Cerella e ovviamente accorpando anche e quindi mettendo i lavoratori nella condizione di poter lavorare direttamente per la società regionale di trasporto. Paolo Sallese, voi lavoratori come vivete questa situazione così precaria, così difficile? Noi lavoratori paradossalmente è brutto da dirsi ma ci stiamo quasi abituando ormai. Chiunque si voglia appassionare un attimino, perdere un po' di tempo nel leggere la rassegna stampa e quindi vedere gli articoli a firma del sottoscritto capirà che questi stessi problemi che oggi sollevano i sindaci in maniera del tutto misteriosa, come se fossero tra l'altro soggetti che scendono da Marte e non conoscevano i problemi sono invece questioni che personalmente ho sollevato parecchie volte in ordine alla viabilità, a pezzi, alla sicurezza dell'esercizio, la sicurezza delle fermate, le percorrenze, quindi sono argomenti che noi conosciamo benissimo. Chiaramente siamo sicuramente come organizzazione sindacale, come lavoratori ovviamente vicino alle posizioni di questi sindaci che in buona sostanza chiedono di non voler vedere tagliare i loro servizi. Ad oggi devo dire, insomma per onestà intellettuale, che questi servizi non risultano essere stati tagliati. Ecco, per ciò che riguarda poi la situazione occupazionale, avete paura per il posto di lavoro? Allora, noi abbiamo paura, ma è la stessa paura che credo che chiunque lavori a Cerella ha paura e speranza. Ecco, dal 2004, nell'aula del Consiglio Comunale adesso il sindaco Francesco Menna richiamava a un attimino di decenza istituzionale, no? Perché stava sfociando la discussione in bagarre. Allora, diciamo, le paure sono dettate dal fatto che se non ci dicono esattamente che cosa vogliono fare di questa società a Cerella, ognuno, ogni sera, quando finisce il proprio servizio, il proprio dono di lavoro e torna a casa, ovviamente il giorno dopo ricomincia la giornata nell'incertezza assoluta. Le speranze sono quelle, invece, di vedere finalmente, regionalizzare definitivamente questa società e rispetto al tema delle responsabilità che qualcuno, chiaramente, giustamente, da un punto di vista politico, evoca in Consiglio Comunale, beh, io vorrei far presente questo. L'ARPA è entrato in questo mercato nel 2004. All'epoca c'erano 5 milioni di chilometri che gestiva l'autoservizio Cerella. Aveva tre sedi societarie, una a Vasto, una nel Molise e una in Campania. Aveva oltre 130 dipendenti. Di tutto questo non è rimasto nulla. Nel senso, i chilometri, i 5 milioni, sono finiti a 1 milione e 7. I lavoratori siamo finiti a 70. Le due sedi campane e molisane sono state soppresse. Quindi, se dobbiamo analizzare le responsabilità politiche, io dico, dovremmo fare marcia indietro al 2004, poi al 2011, quando praticamente l'80% delle quote sono finite di ARPA, si sono ridotte al 51%, e fino adesso abbiamo riacceso di nuovo un barlume di speranza, perché con la ricapitalizzazione del 2018, ovviamente, la Regione ritiene di nuovo l'80%. Ora bisogna fare assolutamente questo sforzo. Grazie a tutti.